Ed eccoci qui, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul nostro canale Super Outlet. Come potete vedere qui vicino a noi abbiamo un nuovo usato. Di questa versione abbiamo, di questa vettura abbiamo altri colori. Ho deciso di recensire questa bianca perché esalta quelle siano le nuove linee estetiche di questo modello che sta facendo la storia con Kia. Una vettura che nella versione precedente era già, secondo me, molto molto bella ma diciamo che Kia ha voluto rimodernizzare questo modello e direi che ce l'ha fatta molto molto bene. Iniziamo dal frontale, come potete vedere il frontale è veramente, è completamente diverso rispetto alla versione precedente. Infatti abbiamo qui i nuovi fari a boomerang che sono veramente molto belli, che continuano fino a quasi metà del cofano. E poi un frontale, una mascherina veramente molto importante con il nuovo logo Kia. Le misure di questa vettura rispetto alla versione precedente non cambiano tantissimo, è leggermente più lunga. Siamo sui 4,51 m di larghezza per 1,86 m di altezza. La versione che abbiamo qui di fianco a noi è la versione Style, a 1.6 da 230 CV, versione EV, quindi motore ibrido, mild hybrid. Ed è una vettura veramente molto interessante, non solo sotto il profilo estetico, perché cambia totalmente da quella precedente, ma anche sotto l'aspetto tecnico. Infatti abbiamo un nuovo pianale e il pianale appunto consente a questa nuova Kia Sportage di sfruttare meglio gli spazi interni. Oltre ad avere gli spazi interni più areosi, ha anche delle chicche molto carine per quanto riguarda appunto il comfort di guida, non solo per il guidatore, ma anche per i passeggeri, rendendo così l'esperienza di guida e l'esperienza proprio all'interno di questo abitacolo il top della categoria. Vediamola da più vicino, ve la faccio vedere meglio. Veramente stupendo, bellissimo, mi piace veramente tantissimo. Soprattutto di notte, dove questi fari fanno veramente una bella scena. E poi questa propria nuova linea estetica, no? Che ha adottato Kia, che ci è riuscito veramente molto bene. Devo dire che in questi anni i coreani stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Invece per quanto riguarda il posteriore, riprende quelle che sono linee del frontale, con la stessa linea dei fari affusolati, lo abbiamo appunto anche sul posteriore, unito da questa plastica nera, che unisce i due fari con sempre il nuovo logo Kia, la scritta EV, Wild Hybrid Sportage. Partiamo dal baule, dove si apre tramite un pulsante posto vicino alla telecamera, qui sotto, quindi non abbiamo un portellone elettrico. I soncini ovviamente sono ancora in ottime condizioni, essendo una vettura con 13.000 km. Abbiamo un baule veramente molto grande, fino a 587 litri di spazio. La soglia di carico è praticamente inesistente, quindi è di facile caricamento. Una delle cose che ho apprezzato di questa vettura sono i dettagli, per esempio di questa tendalina, dove abbiamo un rivestimento in tessuto sulla parte in cui si incastra. E nell'occorrenza la tendalina la si può mettere qui all'interno, c'è proprio l'apposito spazio. Inoltre il fondo è apribile nell'occorrenza per metà, e sotto abbiamo altri vani di carico. Per quanto riguarda i dettagli, abbiamo qui le levette per abbattere i sedili, che sono in configurazione 40-20-40, e poi vari ganci su tutti i lati. E poi abbiamo una presa da 12 volt, da 180 watt, qui a sinistra, con una luce di cortesia. Entriamo invece nel posteriore, dove la portiera ci aiuta, con questo angolo quasi praticamente di 90 gradi, all'accesso dell'abitacolo posteriore. Quindi qui il sedile davanti è impostato alla mia altezza, e devo dire che ci si sta veramente molto molto bene. Questa è una delle parti più interessanti della vettura, perché abbiamo veramente dettagli che rendono confortevole il viaggio. Innanzitutto abbiamo dietro i sedili una tasca in pelle, abbiamo un gancio portaborse, e qui sopra un gancio portagiacche. E inoltre sul sedile abbiamo delle prese tipo C, su entrambi i lati, e poi vanno i portoggetti, sia a destra che a sinistra. E veramente questo spazio è sfruttato veramente molto molto bene. Inoltre ho tanto spazio sia per la testa, e poi anche per le ginocchia, quindi veramente ci sta veramente comodi. Tra l'altro i sedili di questa vettura sono anche reclinabili, quindi possiamo portarli o dritti, o reclinarli di più. Questo soprattutto per chi ha il seggiolino, per i bambini da mettere dietro, quindi ha bisogno di reclinare il seggiolino, e devo dire che questa è un'ottima soluzione. Inoltre abbiamo in mezzo, se viaggiamo in quattro, la possibilità di avere un poggiabraccio con due portabicchieri. In questa vettura si viaggia tranquillamente anche in cinque, anche perché in mezzo, oltre ad avere un divano che è abbastanza largo, la parte centrale non è molto rialzata, quindi all'occorrenza si può viaggiare veramente anche molto bene per eventuali viaggi lunghi. Passiamo davanti, ed eccoci qua finalmente davanti all'interno di questa Kia Sportage, che è veramente un'innovazione per quanto riguarda innanzitutto la linea estetica e poi la tecnologia che abbiamo all'interno. Infatti abbiamo un finto display, che non è unico, ma in realtà sono due display, veramente di altissime qualità, e poi un volante multifunzione con la possibilità di gestire a sinistra tutto quello che quanto riguarda la radio e la gestione vocale, e poi a sinistra invece il cruise control, e tra l'altro su questa vettura, su questa versione abbiamo anche il cruise control adattivo e il lane assist, quindi veramente a livello di sicurezza completissimo. L'interno di questa vettura è veramente interessante anche a livello di materiali, perché abbiamo il portellone, che è fatto con queste finiture di plastica agommata in finta pelle, veramente molto bella, cromature con una forma particolare per le maniglie, e poi qua la scocca in plastica nero lucido con alzavetri, che sono sequenziali, chiusura delle portiere, del finestrino, e regolabile elettricamente. All'interno c'è veramente tanto spazio anche per il passeggero davanti e per il guidatore, e poi apprezzo veramente tantissimo la costruzione per quanto riguarda l'alloggiamento dei due display, che è leggermente ricurvo, rivolto verso il pilota guidatore. I sedili sono, in questa versione, sono in tessuto, con queste cuciture di colore bianco e questa texture, e all'interno troviamo veramente questo design molto molto bello. La chiave di questa Kia è fatta in questo modo, con i tasti di apertura, chiusura e apertura del portellone posteriore messo a lato, quindi anche a livello proprio di design è elegante anche questa parte qui. La versione che abbiamo noi in vendita è un 1.6 automatico da 230 CV, con questo rotore, comodissimo, con il tasso pulsante parcheggio, e poi qua il drive mode, con il tasto pulsante, con l'auto hold, il tasto sensore di parcheggio, e poi il cruise per le discese. Vettura ovviamente killess, quindi si attiva tramite questo pulsante start stop, e guardate che bella l'animazione del cockpit, e display centrale in orizzontale, veramente molto comodo, e soprattutto molto intuitivo, ve lo faccio vedere meglio. infotainment veramente completo, con la possibilità di gestire tutto quello che ci serve della vettura, e inoltre qui sotto abbiamo un altro piccolo display, con la gestione del climatizzatore, e se questa parte del climatizzatore non ci serve, possiamo avere degli shortcut premendo questo pulsante, per tutto quello che riguarda la gestione dell'infotainment. ovviamente clicchiamo qua per attivare il climatizzatore, quindi questa parte qui è veramente molto interessante, soprattutto gli shortcut sono un'ottima cosa su una vettura che ha veramente tantissime funzioni. poi i vani portoggetti sul tunnel centrale sono organizzati veramente molto bene, qui sotto anch'esso abbiamo una presa a 12 volt 180 watt, con sia presa usb tradizionale, usb c, e poi qui un piccolo vano dove ci sta tranquillamente un cellulare anche abbastanza grosso, quindi per farvi capire tranquillamente ci sta un iphone 14 pro max. qui abbiamo altro spazio, un altro vano, che all'occorrenza possono diventare anzi due portabicchieri, che possiamo far scomparire in questa maniera, e poi qua un bracciolo in pelle con un vano abbastanza profondo, molto molto comodo. qui abbiamo portadocumenti e poi tasche laterali, portabottiglie e portoggetti, sia a destra che ovviamente anche a sinistra. Quindi vettura veramente molto bella, molto interessante, soprattutto nella parte del guidatore. E questa è una delle vetture che abbiamo disponibili nel nostro parco auto di Super Outlet. Quindi ragazzi vorrei concludere questo video dicendovi che questa vettura sarà disponibile sul nostro sito www.superautospa.net, oltre che al video di recensione su questa vettura, anche ovviamente le foto. Di questa vettura, come vi ho detto prima, sono disponibili in altre colorazioni, e ovviamente se è una vettura che non fa per voi, non vi aggrada, comunque nel nostro parco di Super Outlet abbiamo molte altre vetture di qualsiasi tipo di categoria, pronte a soddisfare quelli che sono i vostri bisogni.